La storia, la storia come al solito racconterà la sua vera verità e non chi scrive le cose, chi la scrive la storia, è la storia vera, cioè quelli che l'hanno vissuta e quelli che possono ancora raccontarla dal punto di vista della realtà e non della propaganda. La storia intanto ci dice che il procuratore del Kansas, tale Chris Kobach, che cosa ha fatto? Ha denunciato Pfizer, non lui, il Kansas, quindi uno stato intero e la denuncia è molto grave, è stata messa online da tutte le agenzie di stampa, di Anne Kronos, Reuters, eccola qua, eccola qui, bella pubblica. Allora perché, adesso lo vediamo, il procuratore ha fatto causa, il Kansas ha fatto causa. Pfizer dice, traduciamo velocemente, ha ingannato il pubblico affermando che disponeva di un vaccino contro il Covid-19 sicuro ed efficace. Mentre invece dice dopo, due, vedi, Pfizer ha detto che il Covid-19 era sicuro pur sapendo che c'erano degli effetti avversi, che la vaccinazione era connessa a seri effetti avversi, incluse miocarditi, pericarditi, addirittura gravidanze interrotte e morte. Pfizer ha nascosto queste informazioni importantissime, critical, vedete il termine vuol dire molto bene, critical safety, le informazioni di sicurezza importantissime e critiche al pubblico. Questo non lo dice chi vi sta parlando radio radio, lo dice un procuratore generale di uno Stato degli Stati Uniti d'America, citando in giudizio la casa farmaceutica, la quale, già citata in giudizio nei decenni passati, ha dovuto pagare decine di miliardi di dollari di risarcimento proprio per pratiche scorrette. E poi sono 179 pagine di accuse provate e documentate con tanto di documenti. Vediamo soltanto la parte dove lui proprio fa queste dichiarazioni. Questa cosa è già nei nostri siti, in radio radio .it per chi la vuole andare a guardare, è già stata pubblicata, potete andarla a cercare, la trovate. Pfizer ha mercato la sua vaccina di sicurezza per le donne pregnant, ma in februari del 2021 Pfizer ha avuto rapporti per 458 donne pregnant che ricevono la vaccina Covid-19 durante la pregnazione. Più di mezza delle donne pregnant e più di 10% ha riportato una miscaria. Molti di più in giorni della vaccina. Pfizer ha avuto informazioni di un'october 2020 di un'unica testo di un'unica testo di un'unica testo di una pregnazzi in ratti, indicando che il Covid-19 vaccine è la probabilità di infertilti, la litters e la stagione di un'unica testo. Nr. 2, per la protezione di controllo di le condizioni di myocardia. Pfizer ha consistently deni evidenci di una sensazione di una sensazione di signal between its COVID-19 vaccine and myocarditis or pericarditis. Indeed, on January 18th, 2023, when asked whether its vaccine caused strokes or myocarditis, Pfizer chairman and CEO Alan Burla stated, quote, we've not seen a single signal, although we have distributed billions of doses, end quote. A signal that he was referring to is a safety signal, which refers to a negative consequence. However, as Pfizer knew, the United States military, foreign governments, and others had found that Pfizer's COVID-19 vaccine caused myocarditis and pericarditis. Number three, effectiveness regarding variants. Pfizer also claimed that its COVID-19 vaccine protected against COVID-19 variants, even though data available at the time showed Pfizer's vaccine was effective less than half the time against variants. Finally, transmission. Pfizer urged Americans to get vaccinated in order to protect their loved ones, clearly indicating a claim that Pfizer's COVID-19 vaccination stopped transmission of COVID-19. Pfizer later admitted that it had never even studied transmission of it after its recipients received the vaccine and whether they could say it stopped transmission. After making these misleading statements, Pfizer also engaged in some censorship attempts. Emails revealed that Pfizer officials coordinated with social media platforms to censor any speech critical of Pfizer's COVID-19 vaccine safety and effectiveness. It should also be noted that Pfizer elected not to join the federal government's vaccine development program known as Operation Warp Speed and declined that development funding. When asked about that, Pfizer's CEO, Albert Burla, said Pfizer did not participate in the program in order to, quote, liberate, end quote, Pfizer's scientists and to avoid government oversight of its vaccine development. He also said, quote, they want reports. I don't want to have any of that. End quote. Referring to they, when he said they, he was referring to the federal government. Pfizer's misleading statements contributed to success in marketing its vaccine in Kansas. By February of 2024, Pfizer had delivered over 3.3 million doses of its vaccine in the state of Kansas. This is, this accounted for over 60% of all vaccine doses given in the state of Kansas. This suit is being filed today. And as I mentioned before, it is part of a multi-state effort in which more suits may follow depending on Pfizer's reaction. Alberto, questa cosa la trovo gravissima. Cioè, non è più il complottismo di tutto queste cose, le censure, eccetera. Qui c'è uno Stato col suo procuratore generale che porta una casa farmaceutica a giudizio con un elenco di accuse da rabbrividire, da rabbrividire. 179 pagine e tutti gli allegati. Mamma mia. E noi non dovremmo invocare la libertà per non vaccinarci? Ma porca miseria. Ma questo è di una gravità senza precedenti. Però, ripeto, ci dobbiamo aggiungere la Nuova Zelanda, l'Australia. Ci sono un sacco di parlamentari, senatori di tantissimi Stati che stanno sollevando identiche questioni sulle menzogne, quindi sulle vere e proprie fake news. Allora, com'è possibile che un capo di Stato avalli le fake news di una casa farmaceutica e se la prenda con i cittadini e gli specialisti che invece smentiscono le vere fake news? Qui siamo a un rovesciamento della realtà che è gravissimo. Gravissimo. È di una gravità, caro Alberto, eccezionale, secondo me. Io sono veramente stupito, ripeto, da uomo di comunicazione da più di 45 anni. Io penso che è un incubo questo. Cioè l'incubo della censura, l'incubo del taglio dei viveri, perché a noi ci tagliano i viveri economici, cioè inducono le imprese a non investire, tagliano le monetizzazioni, fanno queste cose, censurano, bloccano. Cioè, e oggi esce fuori che è tutto programmato e che il mandante erano sempre questi, cioè le case farmaceutiche e le lobby di potere, quelle delle armi, quelle farmaceutiche. come possiamo reagire democraticamente? Perché è vero che ci sono una marea di fake. Presidente, ma quelle fake vengono proprio da dentro casa nostra, da dentro casa sua. Per favore, Alberto. Ripeto, io non ho altro che da implorare il Presidente di fare, mi permetto di dire, di fare un esame di coscienza, perché lui continua a insistere su questa faccenda, vuol dire, è un manum perseverare diabolicum. Quindi, francamente, ma questo riguarda anche la guerra, riguarda un sacco di altre cose. Io credo che il lavoro che noi qui stiamo facendo non è solo quello di consolare le persone, ma veramente di chiedere alle persone di sollevarsi. Guarda, io sono pronto, prima o poi, se la cosa continua, a incatenarmi davanti al portale del Quirinale. Guarda, lo farò. Prima o poi lo farò, perché non è più possibile accettare un simile rovesciamento della realtà. No, no, ovviamente le proteste debbono essere... Le persone si ribellino. Che si debbano ribellare le proteste democratiche, civili, non violente, ma ci devono essere. Assolutamente. Perché noi non vogliamo quelle violente dopo. Lo capite perché dobbiamo ribellarci, in qualche modo?